Hello everyone! Today 1 will show you how to plus an order on Temu. Per ordinare su Temu, la prima cosa da fare è scaricare l'applicazione. L'app Temu è disponibile sia per dispositivi iOS che Android. La trovi su App Store e Google Play. Dopo aver scaricato l'app, è necessario creare un account. Puoi farlo facilmente inserendo il tuo indirizzo e-mail o il tuo numero di telefono e creando una password. Ora che hai un account, puoi iniziare ad esplorare il vasto catalogo di prodotti offerti da Temu. Naviga tra le diverse categorie o utilizza la barra di ricerca per trovare esattamente quello che stai cercando. Quando trovi un prodotto che ti interessa, selezionalo per visualizzarne i dettagli. Se decidi di acquistarlo, aggiungilo al tuo carrello. Per visualizzare il tuo carrello, clicca sull'icona del carrello in alto a destra dello schermo. Qui puoi rivedere i prodotti che hai aggiunto, modificarne la quantità o eliminarli se hai cambiato idea. Prima di procedere con l'acquisto, assicurati di aver inserito correttamente l'indirizzo di spedizione e tutte le altre informazioni richieste. Temu offre diverse opzioni di pagamento, tra cui PayPal, carta di credito, Apple Pay e Google Pay. Scegli il metodo che preferisci e inserisci i dati richiesti. Infine, verifica attentamente il tuo ordine, inclusi i prodotti nel carrello, l'indirizzo di spedizione e il metodo di pagamento. Se tutto è corretto, clicca su Acquista ora per completare l'ordine. Dopo aver effettuato l'ordine, puoi facilmente tenere traccia della sua spedizione dalla sezione I miei ordini nell'app. Grazie per aver guardato il video. Subscribe for more SAC Tutorials.